Chiama il numero verde 813 28 24 per una consulenza gratuita e senza impegno. L'emergenza coronavirus sta mettendo in ginocchio l'economia mondiale. Quella italiana già fortemente debilitata ne risente in maggiore misura e non solo nelle zone classificate come rosse o arancioni, ma tutto il paese è sotto schiaffo per il diffondersi del covid-19. A risentirne maggiormente il comparto del turismo che già oggi fa registrare perdite ingenti, ma anche quello del commercio e di riflesso con disagi più o meno intensi tutti gli altri settori. Numerose sono già le aziende che hanno fatto di necessità virtù cavalcando nuove forme di lavoro come lo smart working, ovvero il lavoro svolto a casa che consente, seppur con mille disagi, di continuare diverse attività. Lo smart working possiamo tranquillamente tradurlo in italiano come lavoro da casa. Sono tutto quel complesso di attività che vanno messe in atto da un'impresa o da un ente per fare in modo che anche da casa i dipendenti possano continuare a lavorare, ad esempio in situazioni di criticità. Questo nuovo modo di lavorare prende vita in seguito ad una riflessione quasi obbligata circa il tema della competitività, della produttività e della capacità di innovazione delle imprese. È evidente che al giorno d'oggi un lavoro più flessibile fornisce maggiori benefici all'impresa, ma anche ai dipendenti stessi. Lo smart working riguarda innanzitutto un nuovo approccio culturale alla dimensione del lavoro e ai suoi fattori quali le relazioni tra le persone, i valori dell'organizzazione, l'attenzione alle esigenze, lo sviluppo della collaborazione, l'efficienza e riduzione dei costi passando attraverso la riconfigurazione del rapporto persona-ambiente di lavoro. Noi come TLC Telecomunicazioni abbiamo messo su una struttura di emergenza che speriamo di non usare, ma che consentirà ai nostri dipendenti tramite un pc, un telefono e delle cuffie di avere una postazione identica a quella che hanno attualmente in ufficio, collegandosi ai nostri server tramite una rete VPN e collegandosi al nostro centralino tramite una VPN telefonica. Il dipendente, pur lavorando da casa, potrà lavorare al 100% come se fosse in azienda. Esigenze fortemente sentite in questo particolare periodo di emergenza e numerose sono le aziende che stanno rivedendo i loro processi produttivi. Siamo già pronti da tempo allo smart working perché essendo una compagnia telefonica nazionale ma con una sede locale, dobbiamo per forza di cose essere pronti a qualsiasi eventualità per dare continuità di servizio ai nostri clienti. Nel caso di specie abbiamo riprogettato e potenziato il lavoro da casa perché pur avendo un'estrema fiducia nelle autorità locali e nazionali e personalmente ritengo che la vicenda del coronavirus nel giro di poco tempo andrà a normalizzarsi, dobbiamo comunque essere pronti per dare continuità di servizio ai nostri clienti. Abbiamo quindi dotato i nostri dipendenti dell'infrastruttura necessaria per poter in un'ora uscire dall'ufficio e riprendere il lavoro tranquillamente a casa. Allo stesso modo siamo a disposizione dei nostri clienti per aiutarli in questo processo perché in un momento del genere è fondamentale dare continuità di servizio, soprattutto per i servizi essenziali come ad esempio può essere il nostro. Nel 2019 sono state oltre 570.000 le persone che hanno incominciato a lavorare in remoto facendo registrare una crescita del 20% rispetto all'anno precedente. Sono soprattutto le aziende che lavorano nel comparto dei servizi ad adottare questo approccio. Lo smart working, anche conosciuto come lavoro agile, rappresenta una nuova filosofia imprenditoriale che mette al centro l'autonomia e la flessibilità dei dipendenti e conseguentemente anche una maggiore soddisfazione del cliente.